polemiche da parte dell'opposizione sulla nomina del nuovo comandante. Innanzitutto diciamo ai cittadini che il comandante è il dottor Francesco Delvino che ha preso servizio questa mattina con un incarico per i prossimi sei mesi alla fine dei quali noi valuteremo l'operato del nostro nuovo dirigente e decideremo se rinnovargli o meno l'incarico. Il dottor Delvino ha un curriculum di tutto rispetto le polemiche sono polemiche strumentali e per la verità di vago sapore sciacallesco perché il dottor Delvino è incappato in una vicenda giudiziaria quattro anni fa non è stato ancora processato quindi ancor meno è stato condannato secondo quella che è la mia filosofia di vita c'è la presunzione di innocenza questa presunzione oltre che essere una mia filosofia di vita è anche una norma costituzionale e quindi io non ritengo che queste polemiche siano giustificate. Qual è la verità? La verità è che il dottor Delvino deve affrontare un processo da uomo libero e da persona presuntivamente innocente. Io ho scommesso sulla professionalità, sulla energia, sulla capacità professionale di Francesco Delvino, gli confermo tutta la mia fiducia è una scelta che ho fatto io personalmente nella qualità di sindaco e di assessore alla sicurezza. Mi fa specie che tutti questi sinistroidi garantisti a tempo determinato facciano polemiche rinunciando a un principio di civiltà che è quella della presunzione di innocenza. Vedremo all'opera il dottor Delvino. Se il dottor Delvino sarà il comandante che io credo possa essere tutta la città sarà felice della scelta che io ho fatto. In questo momento posso soltanto dire che ribadisco questa scelta e la sosterrò fino al termine di questo periodo perché io voglio valutare la professionalità della persona. Conosco tanti imputati che sono stati arrestati e assolti dopo 15 anni. Conosco tante persone che sono state vittime di provvedimenti giurisdizionali e che poi ne sono usciti in maniera assolutamente pulita. Quindi respingo al mittente tutte queste polemiche sterili, inutili, di una opposizione che non sa costruire niente se non polemiche vacue. Allora.